Nell'effimera manciata di secondi, su una sedia vuota, sta un fantasma. Avverto il fiato accusativo, ossessivo. Parla con sé degli estinti sulla terra. La notte sa che si batte sempre il petto, ma nemmeno luna e stelle sanno perché. Lui è sempre lì, per una labilità psichica, divenuta eterna, manifestata da silenzi. L'unica cosa chiara che emerge è che l'uso della parola non permetterà la fuga. L'incapacità alla transitorietà durerà. Bloccato da attesa e, direi, straniamento, addirittura anche dopo la vita e la sepoltura.